Ben trovati, oggi siamo con Giuseppe Scopelliti, candidato alle prossime elezioni europee con il nuovo centrodestra. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Ci spiega le ragioni di questa sua candidatura anche in relazione alla vicenda, all'inchiesta che l'avete coinvolto, alla sua recente condanna? Le motivazioni sono molto semplici da rappresentare. Una vicenda giudiziaria, quella che mi ha visto protagonista, legata a un aspetto amministrativo. Come sindaco, firmando i bilanci, mi viene detto che l'amministrazione, il sindaco insieme alla dirigente truccava i bilanci. È un problema che ovviamente riguarda tutte le amministrazioni italiane. Napoli credo che sia un esempio lampante evidente di un buco di bilancio, ma come ci sono ovviamente Torino, Alessandria, comuni Milano, i più grandi, i più grandi e i più piccoli, i comuni sono addirittura in dissesto. Purtroppo è intervenuta la magistratura penale, questa è una materia di magistratura contabile storicamente, e ha ritenuto che qui ci fosse una responsabilità. Quindi, di fronte a una sentenza di questa natura, non potevo fare altro che fare un passo indietro da Presidente di Regione, quindi da segnare le dimissioni e ripartire, perché no, chiedendo al cittadino elettore di giudicare la mia esperienza politica, ciò che avevo fatto, ciò che ho realizzato in questi 32 anni di impegno politico fin da ragazzo e quindi sottoponendomi al giudizio del cittadino elettore. Bisognava però aspettarsi delle polemiche in merito anche all'opportunità politica di ricandidarsi dopo una condanna. Lei cosa ne pensa? Sì, probabilmente. Il partito ha ritenuto proprio che comunque questa condanna, così come emerge anche dagli atti, essendo una cosa di un mero errore amministrativo, se questo verrà confermato nei successivi gravi di giudizio, è un qualcosa che può capitare a tutti gli amministratori d'Italia. Quindi è un messaggio molto pericoloso e inquietante per ogni singolo amministratore, per ogni sindaco di città, questo è un messaggio molto pericoloso. E le polemiche nascono, nascono in maniera strumentale, nascono anche da personaggi della politica che stanno soprattutto nel centro-sinistra e che da una parte dicono scopelliti non è la candidare, però dall'altra dimenticano che nel loro partito, nel Partito Democratico, in questa circoscrizione e in altre circoscrizioni ci sono personaggi indagati o condannati per qualcosa di ben diverso, cioè chi ha rubato come il peculato viene candidato e quindi la sinistra fa come spesso accade, esprime due valutazioni, se un uomo è di centrodestra ecco che deve essere la forma giustizialista, se invece è del centro-sinistra magari del Partito Democratico passa l'idea del garantismo. Cambiamo argomento, in Europa il leitmotiv in questo periodo è l'Europa deve fare di più, l'Europa ha risposto, ha detto diteci cosa dobbiamo fare, allora è una domanda che io giro a lei, cosa deve fare l'Europa? L'Europa deve fare innanzitutto una cosa molto semplice, deve intanto individuare quello che è l'ufficio del Frontex, che è un organismo che fa riferimento all'Unione Europea e anziché lasciarlo a Varsavia trasferirlo al Sud, trasferirlo al Sud laddove ci sono ovviamente i problemi legati all'immigrazione clandestina, a questi fenomeni così oggi pericolosi, anche perché comunque c'erano morte, c'erano disagi e così via. Trasferirlo al Sud, mettere le basi operative, fronteggiare in maniera adeguata queste problematiche, far sì che questi 94-95 milioni di euro che sembra ballino tra la responsabilità dell'Unione Europea che dice di averle trasferite e il Frontex, il vice direttore che dice invece questi soldi non sono mai arrivati, mettere questi soldi a disposizione della struttura e incominciare a fare un percorso diverso, cioè l'Europa non può lasciare soltanto al governo italiano e all'Italia la gestione di un processo così grave e pericoloso e quindi bisogna incominciare a pensare, ad andare sulle coste a sud del Mediterraneo, incontrare i governi e lì costruire un percorso in cui vengono realizzate queste fasi che vanno a bloccare queste procedure e questi viaggi della speranza che poi diventano un dramma per tante circostanze. Ma quindi secondo lei il modello europeo non funziona, non è solo una questione di risorse? L'Europa non è pronta, l'Europa è disinteressata perché anziché farsi carico di questo problema pensa di delegarlo al governo nazionale, non è un problema di un governo nazionale, questa è una strategia e deve essere un processo, un capo all'Unione Europea e noi su questo continueremo a rivendicare il ruolo dell'Unione Europea. Ma questi migranti vanno accolti o vanno fermati? Questi migranti possibilmente vanno fermati, una volta che arrivano vanno accolti certamente però vanno fermati perché altrimenti abbiamo qui un aumento dell'800% negli ultimi mesi degli arrivi, ovviamente c'è un costo elevatissimo che per noi significa cifre elevate anche per la gestione di queste persone e effettivamente non siamo in grado neanche di dare una risposta poi in termini ovviamente di accoglienza. Passiamo alla questione fondi europei, lei ha detto che sostanzialmente questo modello di gestione non funziona, ma allora qual è la questione? Bisogna dare più autonomia alle regioni? No, bisogna sicuramente snellire le procedure, che sono questo un elemento frenante perché l'iter procedurale è veramente farraginoso e quindi crea problemi. L'Europa ha capito, così come il governo nazionale, anche su input delle regioni che non serve più canalizzare le risorse, le risorse di mille rivoli, quindi in maniera capillare su misure e su azioni. Serve concentrare il tutto su 4-5 grandi temi che sono le vere grandi emergenze oggi di questo nostro Paese. Ma snellire le procedure non può voler dire anche far diminuire i controlli in un Paese in cui i fondi europei molto spesso… Noi siamo il Paese dove ci sono forse le leggi più complesse sul piano dell'evasione e però c'è la più alta evasione forse d'Europa. Il problema di fondo è aiutare le amministrazioni a non mettere in campo degli iter che certamente rallentano l'utilizzo delle risorse. I controlli sono un'altra cosa. Questo Paese tra l'altro è un Paese che non spende le risorse europee, ricordiamo la Campania, Maia Nera, nel senso che nel tempo si è giudicata questo record, anche la Calabria. Sì, noi sul FERS sicuramente abbiamo un investimento e un impegno di spesa, è una spesa importante, ovviamente non una spesa che ci consente di dire che andiamo molto bene. Sul Fondo Sociale Europeo siamo una regione che forse ha speso più di tutte, però questo non basta perché poi alla fine l'idea è quella di spendere il 100%, ma vede sui fondi comunitari, c'è un problema serio che io continuo a sostenere già negli anni 2000 quando ero assessore alla formazione al lavoro. Il problema nostro e del Mezzogiorno in particolar modo non è un problema di spesa, perché tutti quanti facciamo la corsa alla rendicontazione all'idea di aver speso le risorse. Il problema è capire e avere tecnicamente un qualcosa che ci consenta di dire che le risorse investite hanno prodotto qualcosa di importante sul territorio, che voglio dire ricchezza per il mondo imprenditoriale, quindi spunti sul tema della ricerca, occupazione, quindi un riscontro del calo della disoccupazione giovanile, soprattutto sui nostri territori. Lei è candidato nel nuovo centrodestra, ma ha ribadito più volte la necessità, secondo lei, di una chiara scelta a destra. Allora, io le chiedo, con quale orizzonte politico e in che senso? No, il nuovo centrodestra nasce, così come dice il nostro leader Angelino Alfano, con l'idea di raccogliere i moderati, gli uomini del centrodestra che ritengono esaurita l'esperienza di un centrodestra ormai superato, quindi fuori dal contesto in cui viviamo, per alcuni aspetti. Angelino Alfano ha detto più volte che il nuovo centrodestra c'è la Ciri Centro, ma c'è soprattutto la di destra, che non indica soltanto la direzione, ma indica che questo nuovo centrodestra ha una sua destra. Ecco, noi vogliamo caratterizzare questo tipo di partito perché dentro il nuovo centrodestra vogliamo che si identifichi la destra, quella destra che in Forza Italia viene, diciamo così, molto anacquata, quella destra che forse non riesce a emergere con un progetto ambizioso e serio e con una leadership adeguata che sta ancora più a destra. Il nuovo centrodestra invece può avere in Angelino Alfano quel leader che sa coniugare il centro così come la destra. Ai tempi di Almirante c'era questa idea di una destra quasi nazionalista, ma la vera destra è una destra europeista, come disse Giorgio Almirante, la destra o è Europa o non è, quindi la destra è una destra moderna. Io sono stato, le racconto una cosa particolare e bella, sono stato uno tra i dieci firmatari di un documento di alleanza nazionale che presentammo la proposta al Partito Popolare Europeo di iscrizione e di accesso da parte di alleanza nazionale. Quindi anche in questo non soltanto sono uno degli otto fondatori del nuovo centrodestra, ma fui tra i dieci firmatari di un documento di alleanza nazionale che chiedemmo al tempo al Partito Popolare Europeo l'idea di poter entrare in quel grande contenitore in Europa dove si riconoscono nella Carta dei Valori del Partito Popolare Europeo tanti partiti. Bene, grazie a Giuseppe Scopelliti. Grazie. Grazie a voi per averci seguiti. Alla prossima, ciao. Grazie a tutti.